Davvero una notizia improvvisa che prende alla sprovvista tutti i fan di Hawaii Meteor Mother. La piattaforma Hulu ha infatti ordinato uno spin-off, sequel, della celeberrima sitcom che vedrà come protagonista Hilary Duff, attrice nota per essere stata negli anni 90 il volto di Lizzie McGuire. La storia di questa nuova serie, che avrà il titolo di How I Met Your Father, si ambienterà nel prossimo futuro dove la nostra protagonista, Sophie, racconterà a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. La storia tornerà dunque indietro al 2021 dove Sophie, insieme al suo gruppo di amici stanno o cercheranno di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle app di appuntamenti e delle opzioni illimitate. La serie avrà come showrunner Isaac Taker ed Elizabeth Berger, già impegnati nell'apprezzatissime serie This Is Us. I creatori di How I Met Your Mother Carter Base e Craig Thomas avranno il ruolo di produttori esecutivi. La Duff, come riporta Variety, si è detta davvero entusiasta di questa possibilità. Per il prof, come riporta. Le Duff, come riporta. Le Duff, come riporta. Il primo Grazie a tutti.